schianto sulla pecchiese nell'incidente muore un agente della polizia stradale le marche entrano in zona bianca addio al coprifuoco e nessun nuovo caso di covid in regione cna provinciale l'assemblea elegge il nuovo presidente il direttivo ital service grande vittoria nella prima gara scudetto attesa per il match finale contro metacatania una buona serata a tutti i telespettatori di rossini tv il canale 633 del digitale terrestre bentornati un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale rossini news in apertura parliamo di cronaca con il grave incidente stradale che ha avuto luogo nella giornata di ieri lungo la strada pecchiese tra cagli acqualagna nel quale ha perso la vita samuele santi 44 anni e agente della polizia stradale di pesaro santi stava viaggiando a bordo della sua moto insieme alla moglie erica quando secondo le prime ricostruzioni avrebbe tamponato l'automobile che lo precedeva lungo la carreggiata e che viaggiava nello stesso senso di marcia il grande schianto ha scaraventato l'uomo prima contro la vettura e poi a terra santi è deceduto sul colpo rendendo vano ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari mentre la moglie è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale torrette di ancona tanti messaggi di cordoglio giunti dai colleghi santi che lascia un figlio di 16 anni era stato in servizio per 15 anni alla questura di pesaro e di recente era passato in servizio alla polstrada sempre di pesaro ancora la cronaca in primo piano per un incidente che si è verificato ieri mattina ad una donna originaria di senigallia classe 1952 ma residente ormai da tanti anni a cagli che stava percorrendo assieme al marito e ad alcuni amici appassionati di camminate il sentiero numero 4 sul monte nerone durante un passaggio molto delicato la signora ha perso l'equilibrio precipitando per una cinquantina di metri tra rocce ed alberi i compagni di gita hanno alertato i soccorsi e sul posto sono giunti sia gli operatori del soccorso alpino e speleologico della stazione di pesaro rubino sia i vigili del fuoco del comando di pesaro la situazione apparsa subito grave in quanto la donna era fortemente dolorante a causa dei numerosi traumi riportati la signora dopo essere stata recuperata e imbragata su speciali attrezzature in dotazione al soccorso alpino è stata trasportata attraverso l'eliambulanza al sottostante campo sportivo di piobbico per la consegna ai sanitari e successivamente all'ospedale torrette di ancona nonostante diversi traumi e le ferite la donna non dovrebbe essere in pericolo di vita e ora cambiamo pagina perché da oggi lunedì 21 giugno le marche entrano ufficialmente in zona bianca oltre che dalla cancellazione del coprifuoco l'arrivo della regione nella fascia con minori restrizioni è stato sancito anche da un importante segnale a livello sanitario nelle ultime 24 ore infatti e per la prima volta da dieci mesi a questa parte non sono stati segnalati nuovi casi di positività al covid 19 su tutto il territorio regionale vediamo l'ingresso della regione in zona bianca arriva di pari passo con un importante aggiornamento sanitario per l'intero territorio marchigiano nella giornata odierna infatti dopo dieci mesi e più precisamente dal 3 agosto 2020 non sono stati registrati a livello provinciale regionale nuovi casi di covid 19 il dato arriva direttamente dal bollettino quotidiano del servizio sanità della regione che riporta quindi l'assenza di positività al coronavirus sugli 812 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore 309 nel percorso nuove diagnosi e 503 nel percorso guariti una notizia accolta con ottimismo ma anche con cautela e con il richiamo al rispetto delle regole da parte del governatore francesco acquaroli dall'assessore alla sanità regionale filippo saltamartini e dal primo cittadino peserese matteo ricci l'ingresso delle marche in zona bianca si traduce e coincide anche con l'eliminazione del coprifuoco misura in vigore da diversi mesi e che a partire dalla data odierna sarebbe stata abolita anche in zona gialla in diminuzione complessiva anche le restanti restrizioni nessun numero massimo per le tavolate all'aperto dei ristoranti al chiuso invece rimane il limite dei sei commensali per tavolo consentiti i banchetti dopo cerimonie e funzioni civili con green pass obbligatorio per la partecipazione visite a parenti e amici consentite senza limiti orario di numero di persone se lo spostamento avviene tra zone bianche sul fronte economico invece riapriranno le attività ancora interdette dalle regole precedentemente in vigore anche se alcune di queste dovranno osservare dei limiti è il caso delle discoteche e delle sale da ballo nelle quali sono autorizzati unicamente i servizi di bar e di ristorante senza la possibilità quindi di ballare in pista nessuna variazione invece sul rispetto del distanziamento interpersonale e sull'utilizzo delle mascherine al chiuso o all'aperto anche se su questo fronte si attendono novità a livello nazionale durante l'ultima riunione del comitato provinciale per l'ordine la sicurezza pubblica il prefetto di pesaro urbino tommaso ricciardi ha evidenziato la necessità che con l'ingresso della regione della provincia in zona bianca venga implementata l'attività di monitoraggio del territorio da parte delle forze di polizia e della polizia locale in particolare nelle aree esposte al rischio di sovraffollamento frequentate principalmente da giovani nelle fasce orarie della movida e nelle giornate festive e prefestive nell'ultimo fine settimana di zona gialla appena trascorso sono stati tre i locali situati tra viale trieste sottomonte multati dalla municipale per la mancata autorizzazione a trasmettere musica in orario serale uno di questi è stato inoltre sanzionato anche per la violazione del divieto di assembramenti e ora voltiamo pagina e parliamo di economia ed imprese perché si è svolta ieri l'assemblea cna per l'elezione del nuovo presidente provinciale degli organismi direttivi vi racconteremo nel dettaglio venerdì in prima serata questa assemblea appunto della cna ma nel frattempo vediamo qualche anticipazione e un primo racconto nel prossimo servizio si è svolta nell'azienda neomec di pesaro l'assemblea elettiva del nuovo presidente e degli organismi direttivi della cna di pesaro urbino la 22esima assemblea congressuale nei 74 anni di storia dell'associazione degli artigiani e dei piccoli e medi imprenditori si è aperta con i saluti e con gli interventi del sindaco di pesaro matteo ricci e successivamente del governatore della regione francesco acquaroli presenti all'evento anche i consiglieri regionali andrea biancani michaela vitri e nicola baiocchi insieme a diversi sindaci della provincia dopo le parole del presidente uscente alberto barilari alla guida della cna per otto anni e ora nominato presidente onorario per l'importante lavoro svolto è stata la volta della relazione del segretario moreno bordoni riconfermato alla guida dell'associazione per altri quattro anni nostre imprese ci hanno dimostrato soprattutto in questi due anni di pandemia ma nel nostro territorio da oltre un decennio di economia in grande difficoltà che non hanno bisogno di elemosine hanno bisogno solo di essere messi davvero nelle condizioni di fare il proprio lavoro che loro sanno fare come nessun altro al mondo questo è ben chiaro quindi chiedono che i denari che arriveranno per il recovery plan vengono davvero investiti in maniera seria su progetti investimenti soprattutto nel nostro territorio infrastrutturali e parlo di infrastrutture materiali e immateriali che insieme a queste situazioni insieme alla battaglia che cna sta facendo da anni contro la burocrazia e la tassazione saranno il volano vero di ripresa nella seconda parte dell'anno quando inizieranno anche le fiere e b2b in presenza a livello internazionale i segnali dell'export sono importanti per la regione Marche straordinari nel primo trimestre per la provincia di peso urbino più 3,3 per cento nella regione Marche ma più 21 nella provincia di peso urbino segno che i nostri imprenditori hanno iniziato davvero a vedere la luce in fondo al tunnel e hanno ripreso quell'attività che era stata diciamo così l'unica davvero trainante negli ultimi anni di recessione del nostro territorio lotta alla burocrazia e riforma del fisco sono stati temi sottolineati anche dal segretario nazionale Sergio Silvestrini durante il suo intervento la prima richiesta è quella che si spendano bene le enormi risorse che abbiamo a disposizione il piano nazionale di ripresa e resilienza è l'elemento qualificante per poter dare al paese una distonia positiva e una potente inversione del ciclo economico e poi certamente le riforme principali che noi chiediamo è oltre al fisco è quella della burocrazia l'elezione del nuovo presidente della CNA di Pesaro Urbino è arrivata al termine dell'assemblea l'incarico è stato affidato a Michele Matteucci 41 anni di Rio Salso imprenditore del settore legno arredamento e titolare dell'impresa Matteucci Wood System con sede a Monte Calvo in Foglia il problema della piccola e media impresa è la paura quando un imprenditore ha paura quindi si si limita negli investimenti si fanno i passi con i piedi di piombo e questo crea incompatibilità cioè incompatibilità per la prosperità dell'impresa quindi la piccola e media impresa non avendo una struttura abnorme deve comunque sia cercare di concentrarsi nel loro core business lavorare per cercare di fare la qualità e tutto il resto lasciando delegando quindi le pratiche burocratiche cercare di farsi tutelare da un'associazione noi come CNA nella provincia di Pesaro Urbino per i numeri siamo la prima associazione di categoria quindi cercheremo in continuità con la presidenza che prendo da Alberto che ringrazio di portare avanti questi valori e da questo mercoledì 23 giugno inizia un ciclo settimanale di serate all'aperto che coinvolgerà ristoratori e attività commerciali dell'area del centro storico compresa tra Via Passeri, Via Belvedere e Piazzetta Antaldi i mercoledì di Via Passeri saranno replicati per tutta l'estate come ci spiega questo prossimo servizio dal 23 giugno per ogni mercoledì d'estate Via Passeri così come Via Belvedere e Piazzetta Antaldi si chiudono al traffico e si aprono a serate all'insegna della ristorazione e del commercio all'aria aperta un esperimento testato nell'estate 2020 che quest'anno si rafforza dalla costituzione di un'associazione presentata sabato nel comune di Pesaro denominata Centro Commerciale Naturale Via Passeri associazione alla quale hanno aderito 18 attività assieme al Museo Nazionale Rossini E' mercoledì tutti i commercianti, gli artigiani, i ristoratori della Via esprimeranno la loro eccellenza i negozi saranno aperti, ci sarà la possibilità di visitare il Museo Rossini di sera i ristoranti avranno uno spazio pedonale da dedicare all'inserimento di più tavoli per assistere all'animazione musicale quindi verranno coinvolti dei gruppi musicali, ci sarà intrattenimento e si vivrà la via anche di sera in un giorno infrasettimanale che soprattutto d'estate vede un po' il centro generalmente un po' più abbandonato rispetto alla zona del mare. In questo caso invece faremo in modo che questa arteria principale della città diventi percorribile, vivibile e fruibile dai cittadini attraverso tutte le attività presenti si potrà fare shopping, si potrà mangiare all'aperto, si potrà ascoltare della musica quindi viviamo la nostra città nel migliore dei modi e con l'apporto di tutti i commercianti e gli attori presenti nella via Passeri. Dopo un anno passato, un'estate passata scorsa a provare, a rodare questa festa di mercoledì dove abbiamo voluto sistemare della musica lungo la via, negozi aperti serali, strade chiusa e passaggio pedonale importante, si è preso in considerazione in questo periodo di aprirsi un'associazione. La nostra associazione è sulla base culturale, sociale e culturale, quindi partiamo dal presupposto che siamo all'interno di un sistema di via storica importante di Pesaro dove poi il finale della via è tra l'altro sul Teatro Rossini e in mezzo abbiamo questo museo e la biblioteca quindi due situazioni importanti che culturalmente ci hanno fatto valorizzare insomma anche le nostre attività. L'essersi costituiti in rete d'impresa ha consentito alle attività coinvolte anche di partecipare a un bando regionale beneficiando così di alcuni fondi dedicati. Tutti i commercianti di via Passeri hanno partecipato a questo bando hanno fatto sinergia e hanno creato rete d'impresa e partecipando a questo bando regionale siamo entrati dentro la graduatoria quindi a breve arriveranno anche dei fondi per tutte quelle attività che nell'anno 2019 hanno avuto delle spese riguardanti la pandemia. Michele Mariotti, direttore d'orchestra Nato e formatosi artisticamente a Pesaro dove si è diplomato al Conservatorio Rossini è stato nominato come nuovo direttore musicale del Teatro dell'Opera di Roma. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e il vice sindaco Daniele Vimini hanno espresso gioia e orgoglio per il nuovo incarico assunto da Mariotti ribadendone il grande livello artistico e riconoscendo in lui il simbolo di una nuova generazione di artisti che partiti da Pesaro si stanno affermando a livello internazionale. Il Teatro Sperimentale di Pesaro accoglie l'Oscar ricevuto da Bruno Cesari per il film L'Ultimo Imperatore. La statuetta più celebre del mondo è stata presentata al pubblico della 57esima mostra internazionale del nuovo cinema ai pesaresi e ai turisti che dal fine settimana appena trascorso possono ammirare l'Oscar insieme agli altri importanti premi ottenuti dallo scenografo pesarese all'ingresso della sala grazie all'enorme dono che la vedova Laura Curreli ha fatto alla città. E gioia e gratitudine sono stati espressi anche dall'Istituto Bramante Genga per la donazione di un consistente numero di tablet agli alunni che non possono seguire le lezioni a distanza grazie all'iniziativa promossa dall'Agenzia Governativa Americana per lo Sviluppo Internazionale USAID e il Rotary International. La preside Anna Gennari ha voluto sottolineare i ringraziamenti al presidente del Rotary Club Pesaro Mauro Mancino. E il Comune di Vallefoglia ha consegnato all'Associazione Nonno Mino un nuovo pulmino da 9 posti allestito con un'apposita pedana di sollevamento che permetterà anche alle persone non deambulante costretti in carrozzella di usufruire del mezzo. L'acquisto del mezzo è stato possibile grazie al contributo concesso da Banca di Pesaro Credito Cooperativo. E si è svolta invece questo fine settimana in spiaggia libera sotto monte la cerimonia per la 28esima bandiera blu di Gabice Mare assegnata dalla Fondazione per l'educazione ambientale lo scorso maggio. L'intervista è al sindaco di Gabice Mare, Domenico Pascuzzi. È un momento importante per la nostra città proprio per iniziare la stagione. Il nostro 28esimo vessillo, quindi la nostra 28esima bandiera blu che poi è dietro la bandiera blu ci sono tanti aspetti soprattutto la sostenibilità ambientale, la qualità della spiaggia la qualità delle acque, la pulizia delle acque e della balneazione tutta una serie di raccolta differenziata tutta una serie di parametri che vengono valutati attentamente e che ci permettono ogni anno ormai da 28 anni di avere questo importante riconoscimento che poi contraddistingue la nostra località e naturalmente che sia anche di buon auspicio per l'inizio di questa stagione balneare. E sono stati presentati questo fine settimana gli eventi organizzati dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Gabice Mare per la rassegna Agora contro le diversità iniziative, incontri, dibattiti, presentazioni di con e per le donne nell'ottica di proseguire la campagna di sensibilizzazione per far regredire le disuguaglianze ad opera della Commissione Pari Opportunità del Comune di Gabice Mare. Il primo appuntamento Donne ai vertici si raccontano e confrontano è già fissato per questa sera lunedì 21 giugno alle ore 21 in piazza Giardini, Unità d'Italia. Location che lunedì prossimo 28 giugno ospiterà il secondo incontro protagonista del quale saranno le letture tratte dal libro scritti Pesaresi della tempesta virale a cura di Paolo Pagnini e di Stefano Giampaoli. E apriamo ora la pagina sportiva del nostro telegiornale con l'importante vittoria messa a segno ieri dall'Ital Service nella gara di andata delle finali Scudetto contro la Meta Catania. Un risultato che fa ben sperare per la conquista del titolo per il quale però bisognerà attendere la gara finale di ritorno in programma proprio questa sera. Nel frattempo vediamo il racconto del primo match partito in ritardo a causa di un blackout che ha colpito il Palanino Pizza a pochi minuti dal calcio d'inizio della partita. Ci troviamo al Palanino Pizza per la finale di questo Scudetto Calcio a 5 Ital Service contro Meta Catania una partita che è partita scusate la ripetizione con quasi due ore di ritardo c'è stato un problema tecnico un cortocircuito che ha impedito l'inizio previsto questa sera alle ore 21. Chi vincerà lo Scudetto non si sa i giocatori sono in campo sono agguerriti più che mai per cercare di portare a casa appunto questo ambito Scudetto. Lunedì sera il ritorno e si decreterà finalmente il vincitore. Per la squadra di calcio a 5 pesarese la gara è stata scoppiettante già dai primi minuti di gioco grazie alla prima rete segnata da Marcelinho e al rapido raddoppio firmato Onorio. Il risultato parziale del match con il vantaggio per 2-0 dei Biancorossi è proseguito senza variazioni fino all'intervallo. Ital Service è poi tornata a scatenarsi nella ripresa. Le tre reti di Borruto abbinate ad un altro gol di Marcelinho e al pallonetto di Miarelli hanno lanciato i Biancorossi fino al punteggio finale di 7-1. Risultato che permette ai ragazzi guidati da Mr. Colini di mettere una serie ipoteca sulla finale Scudetto. In attesa della gara di ritorno in programma questa sera sempre al Paralino Pizza. È stata una serata meravigliosa peccato all'inizio con un po' di trambusto perché purtroppo è saltata la luce per motivi vari che ancora bene non abbiamo capito ma sembra che c'è stato un problema qui nella zona e quindi la partita è iniziata con praticamente due ore di ritardo alle 11 e mezzo però ecco siamo contenti siamo contentissimi soddisfatti perché comunque abbiamo fatto una bellissima partita onore al meta che comunque è sempre stata in partita fino alla fine abbiamo fatto un passo importante per lo Scudetto domani avremo il ritorno se riusciamo a portare a casa anche il ritorno l'ultima partita saremo campioni d'Italia e quindi quest'anno saremo una grande soddisfazione però ancora è presto per parlare perché domani sarà tutta un'altra partita suppongo. È stata una prestazione favolosa di tutta la squadra siamo caricati ma troppo per questa partita per quello quando è successo il casino ci siamo detti tra di noi no dobbiamo giocare anche se sia a mezzanotte a luna non ci frega niente perché noi eravamo pronti per questa partita e assolutamente non volevamo spostare la partita quindi abbiamo dimostrato in campo che era la giornata giusta per fare questa partita. La mia prima doppietta dopo i miei gemellini quindi dedico a loro Cristiano e Beatrice che da infatti scherzando con mio fratello ha detto se oggi riesco a fare due gol saranno per loro perché dopo tutto quello che hanno passato loro sono due guerreri quindi dedico alla mia famiglia e ai miei gemellini questi gol e al Pesaro che questi giocatori prima di essere giocatori sono uomini e la società che è sempre stata dalla nostra parte. e per chi ci segue nell'edizione in replica del nostro telegiornale vi ricordiamo che vi racconteremo l'esito e la gara finale per lo scudetto di calcio a 5 tra Ital Service Pesaro e Meta Catania nel telegiornale di domani martedì 22 giugno. Parliamo ancora di sport ma cambiamo un argomento perché si è svolto in quest'ultimo weekend il torneo di tennis organizzato dal circolo di Baia Flaminia in onore del dottor Marcello Ugolini medico pesarese noto in città e tra le prime vittime del covid nel 2020. Vediamo quindi le interviste realizzate da Antonio Astuti ai protagonisti di questo evento per ricordare il dottor Ugolini. Diciamo che dopo purtroppo la notizia della scomparsa del dottore ci siamo subito adoperati per cercare un modo per onorarlo per ricordarlo anche perché è stato un personaggio sicuramente conosciutissimo a Pesaro è stato anche presidente del nostro circolo è stato un amico per tanti di noi soprattutto per ovviamente quelli un pochino più anziani e quindi ci sembrava doveroso organizzare qualcosa e diciamo la manifestazione la cosa migliore ci sembrava appunto organizzare una manifestazione sportiva essendo lui un tenista un appassionato di sport i soci hanno aderito tutti con molto entusiasmo abbiamo più di 80 partecipanti a questo a questo primo diciamo a memoria Lugolini la nostra intenzione è quella di rendere questo appuntamento annuale addirittura facendo un torneo riconosciuto dalla federazione italiana tennis e niente appunto per ricordare questa persona questo sportivo perché rimanga esatto sempre nei nostri cuori nella nostra memoria ho pensato di organizzare questo torneo in onore di Marcello perché era una persona ben voluta da tutti e stimato da tutti e noi giocavamo tutti sabato c'era un piccolo torneo ormai da 20-30 anni che giocavamo lui sebbene che delle volte avesse male la caviglia ma lui giocava uguale perché era talmente amante di questo sport che non mollava mai e sono contento di aver fatto questo memorial e che tutti i soci hanno partecipato perché per lui è stata una grande persona come ripeto io sono stato invitato da Giorgio e dagli altri soci così a rappresentare un po' la famiglia ho anche una sorella Annalisa e la mamma e in questo circolo che era la terza casa di mio padre nel senso che mio padre ha avuto tre grandi passioni la famiglia fortunatamente il lavoro e questo circolo di cui è stato presidente di cui ha fatto tante cose insieme ai suoi amici e soci sono molto contento e onorato ringrazio il circolo e tutta la città che continuamente ci dà dimostrazione di affetto per quello che il babbo ha lasciato in tutti noi Grande partecipazione per la regata del solstizio alla sua seconda edizione all'evento organizzato dalla Lega Navale di Pesaro hanno partecipato ben 26 barche di cui 16 cabinati e 10 derive del circolo velico Ardizio ormai ospiti fissi soddisfatto il presidente del sodalizio pesarese Antonio Rossini il quale ha affermato di aver visto gli equipaggi contenti di poter riprendere il mare per manifestazioni collettive i primi tre classificati di ogni categoria sono stati premiati con i vini della tenuta Cesaroni che è stato lo sponsor della giornata e nella categoria Charlie dove a sfidarsi sono state le imbarcazioni più grandi la vittoria e il primo posto sono stati conquistati dall'imbarcazione cavallopazzo dello skipper Antonio Severino Aggiornamenti anche per il football americano e per i ranocchi angels la strada per la serie A2 comincia infatti da Roma con la sfida contro i pretoriani domenica prossima i pesaresi saranno di scena alle 16 sul campo Le Rose di Genazzano alla periferia della capitale per i quarti di finale dei playoff promozione e questo era davvero l'ultimo aggiornamento per la sezione sportiva che chiude il nostro telegiornale vi ricordiamo la programmazione di questa sera su Rossini TV alle 21.15 un nuovo appuntamento del programma L'arte della bellezza protagonista di questa puntata sarà Silvia puntata che potrete seguire quindi questa sera alle 21.15 oppure replica nelle giornate e negli orari indicate da questo cartello e vi ricordiamo che è scaricabile su tutti gli store digitali la nuova app di Rossini TV attraverso la quale potrete seguire la programmazione in diretta della nostra emittente 24 ore su 24 oppure rivedere le notizie i programmi e i contenuti di Rossini TV vi ricordo poi l'appuntamento con l'informazione che torna a puntuare domani mattina in diretta alle 7.20 con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini grazie per averci seguito in questa edizione del nostro telegiornale vi auguriamo un buon proseguimento di serata su Rossini TV Grazie per aver guardato Grazie per aver guardato